Oggi primo capitolo dell'Adinolfi Gate perché dipende da molti fattori Dipende da molti fattori, dipende dalla reazione di Adinolfi Che qualcuno malignamente mi ha detto essere una persona con la querela facile Ma io non credo assolutamente a queste panzane Neanche io Proprio zero, zero Sul gruppo di Germano Fufflix sono uscite diverse segnalazioni In relazione ad una cosetta abbastanza particolare Che ha messo in piedi il buon Marione Io non so nulla Sì, allora partiamo magari con una presentazione veloce di Mario Adinolfi Per chi non lo conoscesse Poccherista è cattolico, divorziato a cattolico e cattolico Risposato a Las Vegas e cattolico Obeso, dunque goloso E cattolico Quindi cattolico per quattro volte, non male Espongo con evidenza tutti i miei lati controversi Non rinuncio alla vita che mi ha attraversato e reso quello che sono Per inciso mi è utile che ci si senta migliori di me Agevola la forma della mia comunicazione Se fossi un santo, altero e distante sarebbe assai meno efficace Per quanto riguarda il poker poi non ho mai capito il problema È un'abilità che considero fondamentale nella vita L'ho insegnata alle mie figlie Aiuta a capire come prendere le decisioni Quando le informazioni sono incomplete Sono anche un grande scommettitore L'intelligenza aiuta a vedere il futuro Da 15 anni con un gruppo sempre più vasto di amici Scommettiamo sugli eventi sportivi L'abbiamo chiamato scommessa collettiva E anzi ora dopo il covid Reapriamo gli accessi al gruppo Chi vuole può iscriversi a questa mail pubblica per entrare E non c'è annata che non chiudiamo con profitto Anche molto significativo Detto ciò ragazzi vi lascio la parola Per parlare della questione di oggi Questo fantastico scommesse collettive Scommessa collettiva Scommessa collettiva Allora io mi permetto di partire Palle poi ti do subito parola Perché tutto è partito Da la segnalazione che appunto io ho letto sul gruppo Una segnalazione di qualcuno Diceva ma scusate si chiedeva Ma sto messaggio E quello lì che poi io ho condiviso Quello lì condiviso sul suo profilo ufficiale Quello sulla sua pagina C'era abbiamo Dove lui in realtà Parlava di una testimonianza Di una signora Che era entrata Era uscita Poi rientrata E uno diceva Ma è normale sta roba Vi dico che la prima reazione Ma potrete confermarlo tutti Che hanno avuto colleghi Che l'ho segnalato Non ho fatto Avvocati Avvocati E' stato ma dai Ma è un fake Ma la prima cosa Ma Germano tu me l'hai mandato Io ho fatto Vabbè ma mi stai prendendo in giro Ma te pare Perché è talmente la luce del sole Che uno dice Ma te pare che Adinolfi Una persona pubblica Che ha preso dei voti Che è stata in Parlamento E si espone così Sulla pagina verificata E' impossibile Il giornalista professionista Che ha anche degli obblighi Deontologici Un certo tipo Nel promuovere Proprio le cose E si espone così Il mio avvocato addirittura Ha detto No ma gli avranno hackerato Quando ha letto l'email Ha detto No ma avranno hackerato L'account Cioè useranno Impropriamente Il nome di Adinolfi No Non è così In realtà Come ha verificato Anche Palle È da anni In realtà Che lui promuove Questa scommessa collettiva E così Uno degli utenti La community Ha inviato un'email Aspetta Prima leggo il post Così contestualizzato Ah vai giusto Allora il post è questo qua Pagina ufficiale di Facebook Maria Adinolfi Oggi Una ex socia Della scommessa collettiva Che già aveva raccolto I benefici Lasciando il gruppo È rientrata Vedi anche qui C'è Una bella parabola Per tornare a tutelare I suoi risparmi Stavolta Con investimento Più che triplicato Siamo una famiglia E facciamo festa Per gli amici Che tornano Ricorderete La storia dei due figli Uno che si perde Nei vizi E abbandona L'altro che rimane A lavorare E viene accolto La parabola dei talenti L'inflazione continua A mordere Questo è importante L'inflazione continua A mordere L'unico vero Concreto ombrello È il nostro Betting group L'unico vero La salvezza L'unico L'unico Contro l'inflazione Sì Siamo un gruppo chiuso Ma solo Fino fino al 30 giugno Per far spazio All'amica Che rientra Abbiamo ritagliato Gli ultimi cinque posti Ok Quindi per una Cinque Vabbè ce sta Vabbè Vabbè Ma ce può sta Per la prossima stagione Si chiedono info A di Nolfi Ok E poi magari Anche voi Comprerete L'appartamento Anche le donne Giocano d'azzardo Tutti Tutti Pure le persone trans È incredibile Pensavo che era solo Una cosa Di noi stupidi uomini Tendenzialmente Sono più uomini Che scommettono In effetti Quello sì Poi magari anche voi Comprerete L'appartamento Dei sogni Invece di farvi Consumare Risparmi Da inflazione E costi Di depositi E prodotti bancari Che uccidono La vostra liquidità La vita finanziaria È diventata Un campo di battaglia Da cui bisogna Essere coraggiosi Per uscire Illesi Che è anche vero Però non mi affiderei Magari a cose Di questo tipo Ma chi lo sa La cosa interessante È che poi un utente La community Ha letto questa cosa E ha mandato la mail Chiedendo informazioni E lì Abbiamo iniziato A scavare Natale Il bianconiglio Perché Le risposte Che sono arrivate Sono Avviso Incredibili Allucinanti Cioè A parte che Poi lo vedremo Anche un po' Fuorvianti Nel senso che In una prima mail Nella prima mail Lui dice Che garantisce Lo vedremo Davide No? Potete Sì, sì C'ho tutto C'ho tutto Esatto Lui dice Che garantisce Il 13% Liquidato trimestralmente Che vuol dire Il vostro paese Il vostro paese Significa che ogni tre mesi Io becco il 13% Di rendimento Beh, meglio di esatto In un'altra mail Esatto Siamo là No, quello 18 Questo è il 13 Siamo là Ma poi Nella seconda mail In un'altra email Dice che il 13% È annuale Ah Allora, là già a me È venuto dubbio Ma come annuale Trimestrale Si capisce Questo 13% E poi dice Una roba bellissima Vi spoilerò anche Un'altra cosa figa Che i soldi Lui richiede Sul suo conto corrente Però vedete Sul suo IBAN Sul suo IBAN Top Causale versamento Esatto Top Causale versamento No, Sabba diceva 18 ma garantito 3 Attenzione Da contratto Ah, eh Sì, si diceva Fino al 18 Fino a Fino a È un po' come la taglia Su Palle Uomo Do fino a 1000 euro Secondo me 13 Fino a 300% No, ma poi c'era Un minimo garantito Se non erro Vediamo dopo Lo vediamo Perché lui lo ha scritto E E Chiedeva i soldi Appunto Questi 3000 euro E non solo Poi tra le varie cose Diceva Se compri 25 Quote VIP Da 4 Da 10 No Da 4.000 euro Diventi milionario In 4 anni Qui c'è scritto Quota VIP Da 10.000 euro 10.000 euro Bravo Scusami 25 quote VIP Leggetelo Perché c'è scritto Dei biglietti VIP Ma c'è la quota VIP La quota VIP Se volete lo leggiamo E' un'email Mandata Diciamo Da uno scagnozzo De Germano Scagnozzo De Fufflix No E' un lettore Che giustamente Voleva informazioni Qualcuno chiede il legale E ora ci arriviamo Tranquilli Non è veramente lui Sarà stato hackerato Ragazzi Purtroppo E' così Cioè nel senso Guardate che tutti Hanno avuto la stessa reazione E sono d'accordo con voi Perché in effetti è assurdo Perché lo sta facendo Proprio in maniera Manifesta Quindi Io per lì ho pensato Boh spara talmente tante Cose No Dario ma vai indietro Davide vai indietro Cose Che uno magari se la perde Allora prima mail Ciao Nome della persona SC Tra parentesi Scommessa collettiva E' un betting group Che esiste dal 2005 A cui si aderisce Con quote annuali Da 3.000 O 10.000 euro Quindi da 3.000 O 10.000 euro Da 3.000 A 10.000 euro Oppure no 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 Perché uno è quella normale Ah uno è 3.000 e quello è VIP Giusto Quindi da 3.000 o 10.000 euro La quota da 3.000 Frutta Vincite minime garantite Del 13% Vedi Il minimo garantito È il 13% Non il 3% Minimo Quindi ad inorfi Maggiore di Saba Molto meno di Saba Pagate trimestralmente Ah vedi com'era Cioè è 13% all'anno Pagato trimestralmente Però Ok questa è l'idea Ok Perfetto Quella da 10.000 Vincite minime garantite Del 40% Pagate annualmente Mi coglioni 4.000 euro annui Di vincite minime garantite Per ogni quota VIP Chi ne ha 25 Diventa milionario In 4 anni Cioè proprio sicuro Ma famolo tutti Facebook già cancellato No possiamo verificare No non ci credo No Se è così è bellissimo No Ricorda un certo schema Non voglio dire No Marco Quando c'è un secondo Controllate prego Finisco la mail Finisco la mail Capitale sempre liquido Si può uscire In qualsiasi momento Non si può perdere Cioè proprio Non si può C'è tanto Ma allora Applichiamola a tutta Italia Diventiamo tutti milionari Tutto il mondo A questo punto Ma quindi c'è Scusate Infatti io non capisco Noi abbiamo Conosciamo un sacco di persone Che potrebbero comprarsi Il sistema solare E non lo fanno E non lo fanno E raccolgono 3.000 euro a botta Capito? Cioè questa c'è la cosa Raccoglie 3.000 euro a botta Cosa succede dopo? Non lo sappiamo con certezza Perché non abbiamo speso 3.000 euro Esatto Infatti il punto è questo Dopo lo scambio di mail Uno avrebbe dovuto pagare O 3.000 o 10.000 euro Per andare avanti Possiamo fare un appello Sperando che comunque Questa puntata Anche fra mesi Magari su YouTube Verrà vista qualcuno Che ha partecipato A questo gruppo Scommessa collettiva Ecco Qualche testimonianza Assolutamente sì Se volesse raccontarci La sua esperienza C'è ancora ragazzi Ah c'è ancora Ma infatti mi sembrava strano Addirittura che si esegue In diretta La live Ci assumiamo il rischio Delle eventuali perdite Ma in 18 anni Non abbiamo mai perso Quindi aspetta Lui sta dicendo che qualora Tu dovessi essere proprio Lo sfortunato Che entra nel momento In cui Le scommesse Non vanno bene Le copre lui Sì sì O le copre il gruppo Ci avrà una cassa Tipo Sai Le casse di supporto Per i disoccupati Ah una roba Infinita Però 18 anni Zero sconfitte Sì Quindi finora Non c'è nulla di male Giusto? No no Tutto lecito Il nostro algoritmo Questo pure interessante Il nostro algoritmo È ormai raffinatissimo È basato sulla Ricorrenza Delle apicali Ormai basta che dici Algoritmo Ai tempi di scarcella Ma anche la ricorrenza Delle apicali Qui è proprio tipo Così Così Però fa figo È una supercazzola Va bene così I versamenti sono trasparenti E tracciabili Per via bancaria Le comunicazioni avvengono Solo in forma scritta Avendo così forza di contratto Questo è vero Le vincite sono tassate Cioè Si potrebbe allegare Anche in contrattino Un po' più serio Però Ok Può far fede anche alle mail Le vincite sono tassate Alla fonte Dal concessionario E dunque Sono assolutamente nette Per il membro Scommessa collettiva E non vanno inserite In dichiarazioni di redditi Con totale Regolarità Di fronte alla legge al fisco Qua andrebbe specificato Perché in effetti Il gioco d'azzardo Per alcune cose Non è tassato Se tu vinci Da piattaforma autorizzata Tipo la Esatto Ams Tutte quelle che sono Ams Effettivamente Sono nette Esatto Io ho vinto quest'anno A proposito di iscrivervi al mio gruppo Di vincita sicura Ho vinto quest'anno Circa 3.000 euro E non li ho Questo ovviamente Esatto Quindi questo Il riferimento A tutto ciò Che però È nell'Ams Noi chiaramente Non sappiamo Il sito Di appoggio O i siti di appoggio Di scommessa collettiva Chi lo sa Però penso insomma Che grazie vado Penso che si tratti comunque Di siti autorizzati Possiamo immaginare Siano siti legali Sì Penso autorizzati in Italia Chiaramente Certo Ma che ne penserà Tipo del decreto dignità Ad Inolfi Cioè non va in conflitto Un pochetto Non è una legge Che approvava Chi lo sa Un po' sì Capo terzo Del decreto legge Che noi conosciamo Come decreto dignità Dove si parla Molto in generale Non solo Di gioco d'azzardo Bensì di Giochi con vincita In denaro Quindi anche per dire Un torneo Tipo quello A cui ha partecipato Ad Inolfi In Italia Ultimamente Di poker sportivo Con vincita in denaro Ad Inolfi Ha vinto 8.000 euro Un mese fa circa Era l'EPT di Barcellona Se non sbaglio Effettivamente Un evento di quel tipo Tu in Italia Da un certo punto in poi Da fine 2018 Ti sarai accorto Che prima in televisione Vedevi spesso Pubblicità Sia di siti di scommesse Casino online Non online Tornei di poker William Hill William Hill Sportivo ovunque Sì E anche sulle magliette Delle squadre sportive Ai concerti Poker stars Da un certo punto in poi Questa cosa qui Non si poteva più fare Perché? Perché nel capoterzo Il decreto di dignità Vengono Vietate Le pubblicità Dirette o indirette Ai giochi Con vincita in denaro Aggiungiamo che hanno trovato Ovviamente La soluzione Quindi lo sponsor Diventa il sito di notizie Che fa capo a Tipo che ne so Faccio un nome a caso Poker stars News E tu hai Un canzello Esatto Hai delle notizie Chiamiamole così Sì e poi appunto Cioè un politico E il gioco d'azzardo Hanno lo stato in comune Cioè come veicolo Come casa Posso dire Quindi diciamo che Tutti sti Li chiamo magheggi Ma perché non mi viene Un termine migliore Lui li Cioè li può fare Pure legittimamente Cioè Cioè Avrai contatti Per fare ste cose Eh Mo ci arriviamo su quello Ah sicuramente è coerente Perché lui questa cosa L'ha sempre difesa Cioè La distinzione tra Tra poker Gioco d'azzardo Poi ripeto Bisognerà capire Un attimo Si parla del picchietto Che va a scommettere Diciamo che ci può essere Ah secondo me Nella scommessa sportiva Anche lì Ci può essere Un utilizzo Simil gioco d'azzardo Però Hai a disposizione Qualche elemento Non completamente randomico Questo è vero Cioè comunque La componente di No no finisco Dico solo La componente di casualità È comunque altissima Ma non è 100% Come la slot Questo A noi abbiamo chiesto Insomma dei consigli Capitale fa bene Ad un professionista Insomma un avvocato E diciamo che Ci ha detto questo Allora Le eventuali Problematicità Del tutto Allora se si parla Di vincite tassate Alla fonte Il sito I siti Su cui si appoggia Devono avere per forza Licenze AMS E questo l'avevamo detto Quindi È vero Quello che dice Sulla tassazione A patto che Quei siti Siano effettivamente AMS Il tema Di potenziale Illeciti riguarda Mancati titoli Autorizzativi Per raccolta E gestione Del risparmio Perché Quante volte Abbiamo rotto i coglioni Sulla licenza Del broker Non puoi consigliare Investimenti Non puoi Raccogliere Risparmio Investimenti Questo Ma andate Sul mio IBAN Non mi risulta Che Adinolfi Sia autorizzato Per fare operazioni Finanziarie Non mi pare Vabbè Magari Lo farà vedere Che è autorizzato Magari sì Per carità Però sicuramente Non è la mail Cioè noi valutiamo Le informazioni Che abbiamo Io da Eventuale Da potenziale Diciamo Iscritto A questo sito Non ho garanzie Di nessun tipo E quindi Lo dico anche Ai potenziali iscritti Cioè Chiedete voi stessi Delle garanzie La pubblicizzazione Di rendite garantite La promozione Del gioco Facendo appello Al senso di urgenza Dato dal pericolo Inflazione Cioè Tutte quelle Frasette Che sono state Utilizzate Nella mail E anche spesso Sui suoi post pubblici Sono super problematiche Spesso Moltissimi Sono stati multati Proprio per questo Perché tu dici Ah ragazzi L'inflazione invece Investiteli qua Siamo i primi In Europa L'inflazione Che vi mangia Ma poi Potrete farvi La villa Dei vostri sogni Cioè Sono tecniche Al limite O oltre La possibilità Di pubblicizzare Un qualcosa E aggiungo Come diceva Palleuomo Per il decreto dignità Tu non potresti Neanche pubblicizzarle Certo Prego Paolo Come dire Te fa schifo E sei povero Ti sei lo tercazzo E sei ricco Scopi Da sto punto di vista Il capo terzo Del decreto dignità Dice proprio Che tu non puoi più Fare messaggi Come si faceva In passato Tipo Fallora Sbrigati Affrettati Cioè non puoi Ovviamente Con i giochi Nel pubblicizzare Giochi Convincite In denaro Cioè non solo Non lo puoi fare No ma è immorale Cioè per come la penso io È proprio immorale Quindi mi chiedevo Se è stato riconosciuto Come immorale Almeno in questo ambito Ok Il decreto dignità Eh sì Il nome Sul nome possiamo dire Quello che volete Però Alcuni principi Erano giusti Cioè dire tu La dignità Della persona C'è Rischi di Mortificarla Ancora di più Se Utilizzi Quelli che i fighi Del marketing Chiamano i pain point Cioè i punti Di fragilità E L'ansia La fretta L'urgency La scarsiti No Fai presto Perché abbiamo Solo cinque posti Secondo me E mi auguro Che anche la stampa Qualcuno si interessi Di questo caso Parliamo di una cosa Gravissima Battute a parte Barrucchi a parte Perché È un esponente Come detto Che comunque Ha a che fare Con il giornalismo Ha a che fare Con la politica Ha a che fare Con il poker sportivo La cosa più triste È molto triste È una persona Che si espone Da tanti tanti anni Su temi sociali Importanti È una persona Che Ha Comunque Una sua percentuale Anche nel corso degli anni Ha avuto qualche voto Poi qualcuno Lo prende per culo Il popolo della famiglia Ha fatto poco Però comunque Più di noi Magari Sicuramente Ha preso più Di quelli Che prenderemmo noi Quindi comunque È una persona Che ha una forte influenza Un forte ascendente Dovrebbe essere un super cittadino Un modello Una persona Che rappresenta Gran parte della popolazione Ma in realtà C'è poco di tutto questo Più che altro Io mi immagino È una persona Che anche Comunque Ripeto Grazie alla militanza Nelle istituzioni Grazie al suo Tesserino Da giornalista Ha Anche Una figura Che può Ispirare fiducia Soprattutto Magari nei confronti Di chi crede Alle cose Che lui dice da anni C'è una persona Integralista Cattolica Tutto sto passato E questa diciamo Fiducia Che si è conquistato Con chi gli dà retta a lui Che gli permette Di poter fare tutto questo Certo E questa proprio Sì sì È stato deputato del PD L'abbiamo detto prima È stato segnalato Questo Non vi preoccupate Che le segnalazioni Poi sono cose A parte Che non riguardano la live E qui parliamo Di esposizione Di fatti pubblici Però appunto Per chiudere Parliamo di una persona Che comunque Ha un ascendente forte E tu lo associ Anche ad un qualcosa Di serio Se sei d'accordo con lui Poi chiaramente Le idee Che porta avanti Da anni Sono anche Diciamo Combattute Prese in giro Da molti Però C'è una nicchia Di persone Che condivide Sposa il suo pensiero E potrebbe accettare Anche questi dogmatismi Simili Ai dogmatismi religiosi Cioè Vincerai sicuramente Te lo garantisco Metti i tuoi soldi E diventerai milionario Ti fai le case Quindi secondo me È un caso anche Peggiore di un Saba In termini di Potenza di fuoco Sì Questo dico io Sì 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 sì